La tecnologia deve essere il mezzo, deve servire affinché l'uomo renda le cose più belle, più comode, più sostenibili e più giusti. C'è sempre la volontà di coniugare un po' con la più innovazione e sostenibilità. Anche la Fiat con una macchina come Doblo, che è un'escentica estetica, ma anche funzionalità, lo stesso facciamo noi sul prodotto. Per noi è molto bello. Allarga un po' gli orizzonti e ci permette anche di vivere un'altra parte di noi spesso. Grazie della possibilità. Grazie a tutti.